buongiorno a tutti oggi martedì 13 giugno e benvenuti all'appuntamento con la nostra rassegna stampa ma prima di iniziare quella che sarà una rassegna stampa piuttosto importante andiamo subito a vedere chi si festeggia oggi oggi si festeggia sant'antonio di padova predicatore confessore instancabile sant'antonio coniugato vita apostolica e periodi di ritiro nella solitudine con amore verso il prossimo e amore soprattutto verso dio la sua memoria ricorre il 13 giugno è rappresentato con un giglio in mano e con in braccio gesù bambino ma vediamo un po cosa ci propone oggi il tempo meteo ancora positivo abbastanza buono per la giornata di oggi che resta ancora una giornata piuttosto soleggiata dal pomeriggio sviluppo di temporali e rovesci nelle aree interne in estensione verso la costa domani e dopo domani mercoledì e giovedì è prevista pioggia oggi il sole sorge alle 5 25 e tramonta alle 20 e 49 ed eccoci alla nostra rassegna stampo oggi è una giornata molto particolare ieri è mancato un personaggio veramente storico ormai a livello nazionale e internazionale l'ex premier silvio berlusconi naturalmente oggi tutti i giornali dedicano tutte le prime pagini titoli principali alla sua vita tutto quello che ha fatto per il mondo della politica per il mondo dell'economia e anche il corriere adriatico e il resto del carlino dedicano le loro pagine a silvio berlusconi il corriere adriatico mette proprio la fotonotizia silvio quanti ricordi anche le marche il lutto per la morte di berlusconi e ci sono poi i titolini quando mi disse ora basette tinte spacca pensava fossi io della valle la regola aurea il brand coca cola andiamo a vedere in primo piano delle marche ecco proprio le marche buon viaggio cavaliere hai cambiato anche noi le marche e l'italia piangono la scomparsa di berlusconi acquaroli afferma in ogni campo silvio berlusconi ha lasciato un segno profondo ma andiamo a vedere nel dettaglio la morte di un grande leader che cosa hanno detto di lui francesca acquaroli presidente regione marche un uomo illuminato che non mancherà solo al centro destra ma a tutta italia jessica marcozzi capogruppo di forza italia in regione è stato sempre un fare una fonte di ispirazione per tutti noi antonio depoli senatore presidenze nazionale dell'udc se ne va un pezzo della nostra storia capace di interpretare i bisogni del ceto medio daniele carnevali presidente della provincia di ancone ha segnato un'epoca della storia del nostro paese oltre le appartenenze dino latino presidente del consiglio regionale lascia un segno indelebile nella storia italiana decisiva la sua discesa in campo la senatrice elena leonardi coordinatrice regionale di fratelli d'italia a lui si deve la fondazione del centro destra per come viene inteso oggi l'onorevole francesco battistoni commissario regionale di forza italia è stato un onore essere al fianco del presidente in questi trent'anni stefano aguzzi assessore regionale di forza italia contro di lui c'è stato un accanimento davvero ingiustificato e infine mattia matteo ricci presidente pd di pesi sindaco di pd di pesaro lo abbiamo politicamente avversato ma va via un pezzo di storia contemporanea italiana ad ancora in primo piano i ricordi di casoli senatore con berlusconi quella volta mi disse da domani basette tinte aveva non una ma sette marce in più accendeva la folla come nessuno tutto il resto del corriere adriatico la maggior parte del primo piano marche è quindi dedicato proprio a silvio berlusconi andiamo a vedere subito anche il resto del carlino ecco qua la fotonotizia anche qua quel vertice al ristorante nel 2004 berlusconi cenò con schroeder e agabice racconti e retroscena era il 23 luglio e al posillipo il presidente del consiglio incontrò il cancelliere tedesco elio pasquini ecco come andò il pittore bruni dice dovevamo venire dovevano venire nella mia villa ma purtroppo dissi di no quindi come abbiamo visto anche il resto del carlino dedica tutta l'interno quasi tutte le pagine alla mancanza di silvio berlusconi andiamo invece a vedere le altre notizie le altre notizie vediamo che a fondo pagina morto sempre il corriere adriatico morto il vigile del fuoco fermato il buttafuori picchiato a rimini all'esterno di una discoteca un 28enne di fano deve rispondere di omicidio il resto del carlino lo riporta invece proprio a pieno titolo eccolo qua il buttafuori accusato di omicidio è un 28enne di fano per la procura picchiato fino alla morte il pompiere fuori da una discoteca di rimini ritroviamo l'articolo a pagina 5 la tragedia del pompiere accusato di omicidio il buttafuori faceva l'arbitro è il 28enne albanese fermato per la morte del pompiere in una discoteca di rimini ma nel giro del calcio chi lo conosceva lo descrive persona rispettosa delle regole sui campi di calcio fino al 2019 fisico possente risiede a fano incensurato se vogliamo andare a approfondire la stessa notizia la ritroviamo come ho detto anche nel sul resto del carlino la ritroviamo anche qua eccolo qua pompiere massacrato di botte omicidio fermato il buttafuori fanese e il resto il scusate il corriere adriatico gli da proprio il primo titolo della pagina di fano la tragedia rimini vittima dell'episodio di incredibile violenza un vigile del fuoco secondo le accuse rimasto ferito da un addetto alla sicurezza del locale un uomo italiano di 28 anni di origine albanese il dubbio delle forze dell'ordine in un primo momento riguardava il dilemma se giuseppe tucci 34 anni fosse stato spintonato e di conseguenza avesse battuto la testa sull'asfalto se invece fosse stato colpito al volto dal buttafuori del locale non è stato necessario molto tempo per identificare il buttafuori che si trova adesso in stato di fermo per accuse con le viose le lesioni gravissime che poi si sono trasfermato in accusa di omicidio perché ieri pomeriggio purtroppo giuseppe tucci è morto e quindi questa è la prima notizia che da il corriere adriatico su fano torniamo sempre in prima pagina del corriere adriatico che ci riporta al primo piano di pesaro per la scuola frank il pacchetto gara è affidato a invitalia fondi pnrr il comune velocizza i tempi avvalendosi della società del mefi il 30 giugno la consegna del cantiere per il polo dell'infanzia di via rigoni il sindaco ricci su questa cosa commenta in questo modo inizia la rumba dei lavori che saltano sul pnrr è già iniziata la rumba dei progetti che saltano il governo si è incartato le scuse non tengono più la narrazione dell'europa matrigna non regge qui c'è un problema di incapacità lo ha affermato il sindaco matteo ricci in qualità di presidente nazionale di alia autonomie locali italiane intervenendo nei giorni scorsi all'assemblea regionale a firenze ricci ha chiesto più che più chiarezza in parlamento carte alla mano sul tema del pnrr ed andiamo a vedere sempre su pesaro e provincia siamo alla protesta titolo di pagina rebus competenze per ripulire i fossi su strada condotti uno scarica barile lo sfogo di uno dei titolari degli orti di muraglia che ha riportato ingentissimi danni dopo gli allagamenti sos per la pulizia e manutenzione dei fossi e canali nel quartiere di muraglia la situazione su strada dei condotti in particolare messa in evidenza dai proprietari degli orti è diventata insostenibile ad ogni precipitazione soprattutto intensa perché la strada si è ridotta in condizioni precarie e con importanti cedimenti a chi compete esattamente la manutenzione i frontisti di strada dei condotti evidenziano come il fosso non viene pulito ormai da un anno e mezzo rimaniamo sempre a pesaro e provincia ordigno esploso arrivano i ris si indaga per detenzione innegale ne abbiamo parlato anche ieri al nostro tg delle 20 e 30 si dovrà accertare che tipo di materiale sostanze sono state impiegate restano ancora gravi le condizioni di jon olteanu il 37enne romeno rimasto gravemente ferito nello scoppio della rudimentale bomba casalinga che stava realizzando nella mansarda dell'abitazione e ci spostiamo a urbino cresce il paglio dei trampoli nella sfida la torre cotone edizione ricca di novità tra queste ci sarà anche un ricordo a don italo mancini sempre fano e parliamo della bellissima fontana della fortuna il restauro per recuperare sia la storia che la bellezza fontana della fortuna presentata il complesso progetto firmato martuffi anticipato da un approfondito lavoro di ricerca storica è stato approvato il progetto di restauro della fontana della fortuna una dei monumenti simbolo della città ieri è stato presentato dal sindaco massimo seri dall'assessore ai lavori pubblici barbara brunori dall'architetto a cui si deve l'è elaborato roberta martuffi e dal responsabile del procedimento architetto cristiano tenenti l'intervento sarà impegnativo dato che la fontana è in grave stato di degrado con distacchi della pietra nei parapetti sfaldamenti nei gradini usura delle decorazioni e blocchi nel sistema idrico per riparare il tutto saranno necessari 250 mila euro e c'è una nuova sempre per quanto riguarda fano nuova piscina su questa traccia sarà impostato il prossimo bando per la gestione a darne conto il provvedimento con cui è stato prolungato fino a fine agosto il mandato da 20 mila euro conferito a fine 2022 alla SG plus diretti and partner perché conducesse un'analisi sul bacino di utenza e sostenibilità finanziaria fornendo anche supporto giuridico amministrativo proprio in funzione della stesura del documento è un percorso da eseguire entro giugno per dibblare il nuovo codice degli appalti ci spostiamo in Val Metaura la legge sull'enoturismo è una doppia opportunità l'onorevole Baldelli al convegno di Fossombrone anticipa questa nuova misura la legge sull'enoturismo che rappresenta una grande opportunità anche per le aziende marchigiane vino e turismo un binomio vincente per valorizzare i prodotti del territorio le aziende del settore e gli operatori economici che gravichino intorno all'accoglienza stiamo parlando di ristoratore albergatore guide turistiche e attività del commercio al dettaglio il lavoro che stiamo portando avanti ha detto il deputato Baldelli è finalizzato a creare una piattaforma normativa utile a far crescere l'enoturismo un'esperienza da vivere soprattutto nelle Marche una regione in cui la degustazione delle produzioni vinicole locali si abbine marie straordinaria alla visita di borghi e cantine storiche nonché alla cultura e anche alle tradizioni e sempre in Val Metauro meeting della mezzizia per 150 paracadutisti arrivate all'aeroporto da tutto il mondo si sono sfidati e affermano torneremo Pagine di Val Cesano si apre la sfilata letteraria dei big titolo principale lo start con Bartoletti e Boschero come un libro all'aperto primo appuntamento sarà domani alle ore 21 per parlare della discesa degli dei è tutto pronto per come un libro all'aperto la rassegna letteraria diffusa nel territorio e nel tempo tra vie luoghi successivi e piazze di Mondolfo il sipario si alzerà proprio domani alle 21 in piazza del comune con Marino Bartoletti a cui è stato affidato anche il ruolo di presidente onorario presenterà il suo ultimo libro il terzo della trilogia La discesa degli dei il ricco calendario nato grazie alla collaborazione con Mondadori Bookstore di Fano si snoderà in una serie di eventi in cui il pubblico incontrerà autori di grande rilievo a livello nazionale nel panorama della narrativa del giornalismo della saggistica dello sport e della musica ci spostiamo a Senigallia che apre con titolo di testa case vicino al fiume ipotesi esproprio niente vasche ma aree di laminazione l'idea di Olivetti è espressa alla regione Perticaroli afferma dateci i soldi sistemiamo i danni da soli la regione sta valutando di realizzare delle aree di laminazione a ridosso della misa espropriando le case presenti che verrebbero quindi indennizzate questa è l'ipotesi di deolocalizzazione chiesta dal sindaco Massimo Olivetti ieri nel corso dell'incontro in regione con il presidente Acquaroli e vari tecnici per fare il punto a quasi nove mesi che sono già passati dall'alluvione ha chiesto di poter avere i soldi così da sistemare per conto proprio i ponti crollati e ponti che purtroppo ad oggi ancora non sono mai stati ricostruiti sempre a Senigallia sparisce da casa il quadro del duce poi finisce all'asta in due a giudizio dopo il furto l'opera autografata da Mussolini era stata messa in vendita pensate sul web a 800 euro lasciamo il Corriere Adriatico e torniamo al resto del Carlino resto del Carlino come abbiamo detto a parte la prima notizia il buttafuori accusato di omicidio la fotonotizia dedicata a Silvio Berlusconi abbiamo le notizie laterali il piazzale d'annunzio ce la faremo per il 30 giugno a Fano Ride nel negozio in pieno centro qui servono telecamere andiamo a vedere che cosa è successo effettivamente a Fano a vedere cosa è successo a Fano eccolo qua Ride nel negozio in pieno centro servono telecamere e più sicurezza furto in un punto vendita di abbigliamento la presidente di Confcommercio invoca misure urgenti furto nella notte si è verificato tra domenica e lunedì nel negozio di abbigliamento QB24 nel centro storico la presidente di Confcommercio Barbara Marcolini lancia l'allarme serve più sicurezza la scoperta del furto sarebbe avvenuta nella mattina di ieri al momento della riaportura del negozio per entrare al suo interno i ladri avrebbero manomesso la serratura rubate maglie e camicie facilmente occultabili rispetto ad altri capi di abbigliamento ed ancora Marcolini chiede non solo le telecamere sono dei deterrenti per i criminali ma nel caso specifico avrebbero potuto facilitare l'individuazione del mezzo utilizzato per il furto restiamo sempre sulla pagina di Fano il resto del Carlino ci propone serate al poderino giochi a musica giochi, musica, magia nelle sere d'estate al poderino è un programma pensato per unire grandi e piccini quello messo in campo dall'associazione Vivere il poderino per animare il quartiere e rinsaldare i rapporti nella comunità che lo abita si parte gioventì alle 21 nel rinnovato giardino di via Redi Puglia 5 con il concerto dei Blu 3 al secolo Mauro Ciappa e i fratelli Vampa nati e cresciuti al poderino anche il resto del Carlino punta il titolo di testa di Fano la Fontana della Fortuna tornerà a splendere e il Circolo Gramsci ok alla Federiciana sia la nuova biblioteca federiciana no all'interquartieri questa è la posizione del Circolo Gramsci che invita all'uso del buonsenso il Consiglio Comunale che questa sera dovrà esprimersi sulla delibera di variazione di bilancio che lo riguarda ci spostiamo anche con il resto del Carlino a Fano Valcesano a Mondolfo le guardie mediche sono da incrementare si continua a discutere sulla guardia medica di Mondolfo per la quale il direttore del distretto di Fano Giovanni Guidi come scritto su queste pagine è riuscito a garantire per il mese di giugno il servizio dei turni del sabato e della domenica ma il dibattito dai segretari locali di PSI e PD una serie di richieste al governo e all'amministrazione per incrementare la copertura di questo servizio il resto del Carlino apre col titolo di testa la pagina di Urbino Pernuccio Ordine era Urbino la città ideale Ateneo in lutto per la morte improvvisa del filosofo inaugurò l'anno accademico nel 2014 e ricevette il sigillo nel 2019 ci donò una giornata memorabile con applausi a non finire per la sua lectio e direi che abbiamo visto più o meno tutta la rassegna stampa come detto è stata praticamente quasi tutta dedicata alla scomparsa di Silvio Berlusconi che lascia un grandissimo segno veramente un grande grande segno nella storia del nostro paese direi di chiudere a questo punto con una notizia che può essere interessante per tutti i ragazzi che amano la musica voglio ricordare che entro il 23 giugno ci si può iscrivere al Music Contest è un concorso vetrina per autori di interpreti di musica originale che si propone di offrire ai partecipanti le migliori condizioni di visibilità al fine di facilitare lo sviluppo di un percorso artistico e professionale il concorso è rivolto a band i giovani solisti di età compresa tra i 16 e i 35 anni autori di brani inediti con almeno un componente residente nei comuni nell'ambito del territorio sociale 6 è ammesso al concorso ogni genere musicale con questa notizia io chiudo la rassegna stampa di questa mattina vi ricordo che l'informazione con Fano TV torna stasera alle 20 e 30 con il nostro notiziario io vi auguro naturalmente una buona giornata e ci rivediamo domani mattina grazie e buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.